Buonasera a tutti, ben ritrovati alla TG7 Basilicata. Quest'edizione l'apriamo partendo da una notizia di cronaca. C'è stato quest'oggi uno scontro frontale sulla strada che porta da Melfi alla zona industriale di San Nicola. L'incidente ha coinvolto due auto provocando il ferimento di ben tre persone. Sono intervenute diverse ambulanze e l'elisoccorso per un caso più grave. I feriti sono stati trasportati tutti all'ospedale San Carlo di Potenza. A Matera tre uomini di origine ucraina in evidente stato di alterazione dovuto all'assunzione di bevande alcoliche hanno molestato la dipendente di un locale pubblico. Quando alcuni presenti l'hanno difesa due di loro hanno scatenato un alterco e poi hanno minacciato anche un carabiniere intervenuto sul posto. I due attualmente sono agli arresti domiciliari con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale. La terza persona che era con loro è stata denunciata per molestie. Per l'intera giornata di domani, 15 giugno, la protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta arancione su tutto il territorio. Prima di chiudere vediamo che cosa ci attendi a livello meteorologico proprio domani. Cieli molto nuvolosi con pioggia in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Per questa sera è davvero tutto. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento è a domani. Arrivederci. Cieli Grazie a tutti.